Milena Miconi condivide la sua storia di vita su Grande Fratello Vip, e rivela le lotte che la sua famiglia ha dovuto affrontare dopo il successo di Bagaglino, inclusa la perdita della casa. In un momento toccante, Milena viene sorpresa dalla figlia Sofia, che le dice quanto sia orgogliosa di lei e le incoraggia ad andare avanti nonostante la sua mancanza. L'emozionante ricongiungimento ha commosso non solo Milena ma anche i suoi compagni concorrenti. Grazie a tutti.